Lo vedi questo? È un wustel, l'alimento preferito dai bambini. Tu lo taglieresti così. Sbagliato. Questa è la forma tonda, la forma di un tappo per la gola del tuo bambino. Anche quando vai in pizzeria lo trovi così sulla pizza ed è sbagliato. Quindi taglieremo il nostro wustel a metà, di nuovo a metà e a piccoli tocchetti. Ti prego quindi di prestare molta attenzione quando il tuo bambino mangia.